Acerbo. Il governo Meloni taglia la spesa sanitaria ma si prepara ad aumentare quella per la sanità privata. Da Ascolta la notizia. Per concludere in bellezza l'iter di una manovra classista e reazionaria è arrivato un ordine del giorno di Fratelli d'Italia a firma Foti che impegna il governo a eliminare il tetto di spesa per le offerte della ospedalità privata in regime convenzionato al fine di garantire migliori servizi e una più razionale gestione della sanità pubblica. Il governo Meloni taglia la spesa sanitaria ma si prepara ad aumentare quella per la sanità privata. Lo ha dichiarato Maurizio Acerbo, segretario nazionale del Partito della Rifondazione Comunista, coordinamento di Unione Popolare. La logica è quella del neoliberismo già portata avanti dai governi di centrosinistra e centrodestra, indebolisco la sanità pubblica per fare spazio agli affari dei privati, ha aggiunto.